Eccoci qua. Ciao a tutti. Non sapevo se era online oppure no. Perché io non è che ci prendo molto con questo aggiungimento. Allora, ciao ragazzi. Vi annetto perché innanzitutto voglio augurarvi una splendida domenica. La mia è sempre la stessa, chiusa in questa stanza, con la mia positività, che è la positività al covid, come sapete, non caratteriale, che pure mi appartiene. Ma questa volta voglio essere una negativa e quindi anche a te, caro Giovanni, buona festa di ogni santo, che ci sostenga e aiuti, visto il periodo che stiamo vivendo e visti anche i dati di oggi ed inquietante percentuale fra tamponi e malati di covid. Cara Mare Grazia, come sto? Sto bene finalmente, nel senso che oggi finalmente non ho il mal di testa, cosa che mi ha accompagnato per tutti i 15 giorni di covid, insieme ad altri sintomi. Lentamente torna olfatto e gusto, quindi inizio a sentire almeno gli odori forti e i gusti forti e spero che finalmente io possa essere negativa, ma devo ancora attendere e questa cosa chiaramente mi preoccupa tanto perché mi preoccupa la mia bimba che non ce la fa più a stare senza di me, a non potermi abbracciare e quindi non vedo l'ora di scoprire di essere negativa. Speriamo, speriamo, speriamo. Ci vuole veramente tanta fortuna perché ci sono persone che si sono negativizzate subito. Vedi mia madre e mia sorella più o meno dopo 10, 12, 13 giorni e altre che purtroppo sono stati positivi per tanto tempo. Io aspetto con ansia di sapere se finalmente posso uscire da questo incubo e abbracciare la mia bimba. Sì, tu pure Ivan, sei... Beh, bene, non mi dai belle notizie, pure io sono da 15, vabbè, speriamo bene. Sto seguendo un po' tutto, come sapete, anche lui ha il covid, ma è asintomatico, è sempre riunito, per cui non ho idea di che provvedimenti vengono assunti, però insomma ho letto sui siti, soprattutto sul Corriere, che si va verso una chiusura delle regioni e verso una chiusura di coprifuoco, così, verso le ore 18. E quindi volevo sapere da voi cosa ne pensavate. Grazie a Walter, sono una roccia, sì, effettivamente. Diciamo che ho un carattere forte, ultimamente me ne sono capitate di tutti i colori. La cosa più brutta è sicuramente stata la vicenda del mio papà, che sta meglio, e molti me lo chiedete, sta molto meglio. E purtroppo... Ah, Antonio, tu stai da un mese così, e questo non è una grande notizia per me. Non ce la potrei proprio fare, vi dico la verità. a resistere un mese, ma soprattutto tanto per me. Vi stavo dicendo che vorrei sapere le vostre opinioni sulla situazione verso la quale andiamo, chiusura di regioni e questo, diciamo, coprifuoco alle 18. Io sento molti medici, amici, soprattutto qui a Roma, che mi dicono che purtroppo la situazione presso gli occhi è etrofica, che non ci sono posti, che addirittura nelle ambulanze tengono i malati di Covid, e quindi dobbiamo assolutamente intervenire, e si deve intervenire per cercare di arginare questa ondata di contagi che ci sta molto spaventando e chiaramente ci sta tenendo col fiato sospeso. Come ho detto in altre occasioni, se voi state male, curatevi a casa, come ho fatto io, per chi è sintomatico, come indica il medico, per chi è sintomatico con una bella tachipirina, e non intasiamo gli ospedali perché veramente hanno tanti problemi, soprattutto i medici, molti si stanno anche contagiando e sono veramente distrutti allo stremo delle forze. Grazie Patrizio nel dirmi che sono un esempio di forza. Diciamo che in questi giorni mi sono dovuta dare molta forza, non è stato facile. Vi assicuro che ho avuto momenti molto molto duri, soprattutto quando il mio papà è stato ricoverato e non si capiva cosa avvesse, mi sono sentita tanto smarrita, proprio persa, cioè veramente disperata, lo posso dire, adesso lo posso dire. Tu che hai vana, ancora tosse, vabbè questo è normale, purtroppo fa parte di questa brutta, di questo brutto virus. E quindi vi dicevo, ci vuole tanta forza, per cui state sempre molto attenti, perché io sento continuamente persone che anche avendo un comportamento giusto lo beccano e insomma poi hanno tante difficoltà a gestirlo e a gestire la famiglia. Grazie per tutti i complimenti che mi fate e grazie anche per tutti i messaggi che mi state inviando. Qualcuno mi dice che non si sente, non so perché. Mi scrivo dalle marche che bisogna fare la chemio e se può andare, assolutamente. Io ho letto che per i malati oncologici così come per quelli di Covid tutto prosegue. Sono molto preoccupata per tutte le altre patologie perché mi hanno detto che in molte realtà purtroppo non si riesce a fare la prevenzione e questo è veramente un guaio, nel senso che la prevenzione è fondamentale e che si rischia che onestamente molte persone muoiano di altro. Questo è il dramma vero. sento molte persone che soprattutto in alcune realtà in crisi come la campagna non riescono nemmeno a chiamare il 118 che non si può andare in ospedale per niente e chiaramente questo mi preoccupa moltissimo perché chi poi ha da fare cure per altre malattie soprattutto oncologiche deve poterle continuare a fare perché altrimenti veramente si rischia che poi se non si muore di Covid si muore di altro e non ce lo possiamo permettere quindi credo sinceramente che tu che mi iscrivi alle Marche tu possa andare e assolutamente anche se ci sarà questo di PCM come dice il Corriere per ragioni di lavoro e per ragioni sanitarie ci si può muovere fra le regioni per cui stai tranquillo questo lo potrai fare e lo devi fare ovviamente. Chiaramente per tutto il resto non ci potremmo muovere ma penso io personalmente che sia giusto in questa fase per un po' perché dobbiamo contenere il tutto grazie per tutta la forza che mi inviate grazie Melina per tutti questi messaggi assolutamente di sostegno che ricevo quotidianamente e vedo che alcuni di voi non sentono altri sì non so per quale ragione però forse è un problema vostro perché Gabriele che è sempre attento mi dice che si sente bene mando un abbraccio grandissimo a ognuno di voi ci sentiamo presto nei prossimi giorni vi aggiornerò su tutto e vi raccomando sempre tanta attenzione distanza mascherina solite precauzioni che tutti ci dicono e io mi impegnerò a reagire sempre con più forza spero insomma che di poter uscire presto da questo inferno e da questa casa perché ho bisogno di aria e soprattutto ho bisogno di mia figlia e chiaramente ragazzi è un momento di figlia anche economicamente lo sarà sempre di più e dobbiamo stare veramente molto molto uniti in questa fase evitare follie con la testa perché ci aspettano momenti durissimi io certe volte dico che sfiga essere nati in questa stagione e aver messo i nostri c***o in mondo in questo momento così complicato però vabbè non ci dobbiamo abbattere finirà prima o poi sconfiggeremo a livello mondiale questo maletto virus oggi è difficile vedere positivo ma non ci possiamo arrendere ecco tutto qui e va bene allora vi abbraccio al prossimo grazie veramente di tutto e prossimamente su questi schermi ciao ragazzi buona domenica e buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti